sentite un po' arrivo subito quanti gruppi di whatsapp avete rispondi rapida io ne ho circa 10 circa 10 quanti 11 sicuro 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 veloce 4 o 5 sicuro sì mi ricordo me ne dati di più no due te ne avevo detto io ne avevi detto due o tre ne hai 4 o 5 ora ne ho 4 o 5 sono cresciuti da settimana scorsa capisco molto bene passa al microfono circa 30 circa 30 mi ne dici qualcuno di a parte non dirmi solo quelli fra la famiglia la classe queste le immagino poi quelli del mare del mare le vacanze diciamo il gruppo vacanze quelli del mare dell'anno scorso che sono diversi da quelli del mare quest'anno poi abbiamo vari gruppi delle ragazze della mia classe quindi c'è anche una divisione di genere in classe le ragazze e i ragazzi proprio perché ci sono discorsi e poi ci sono dei gruppi tipo per andare a mangiare la pizza si fa per ogni evento che organizzate nasce un gruppo giusto più o meno più o meno ma sentite un po anche i vostri genitori hanno dei gruppi che in qualche modo vi riguardano sì abbiamo quello appunto della famiglia ne abbiamo molti della famiglia poi poi basta ok quanti dodici sicura dei contatti quando l'ultima volta l'ultima volta giovedì e non sono cresciuti no anch'io circa una decina dimmene tre quello della mia classe quello della mia famiglia questi sono quelli scontati voglio gli altri è quello dei maschi della classe che corrisponde è simmetrico rispetto al suo sì poi non so gruppo poi poi due gruppi che diciamo uno di questo incontro qua che per organizzare quindi c'è stato un gruppo su questo evento che stiamo facendo adesso perché per organizzare creato dalla maestra per organizzare per organizzarci dove vederci e poi un altro ma vi facilita l'organizzazione questo tipo di idea di fare un gruppo non so per venire qua oggi secondo voi vi ha facilitato si poteva farne anche a meno secondo me è stato più è stato utile perché uno poteva scrivere sul gruppo e tutti lo vedevano in senso dove scrivere ognuno voglio fare una domanda mi rispondi prima tu su whatsapp quando tu mandi un messaggio tu vedi quando è arrivato poi diventa azzurro che vuol dire che il destinatario l'ha letto o se il destinatario quale che sia tua amica un tuo parente la tua insegnante quello che non ti risponde subito la cosa ti nervosisce oppure pensi che questa non ti stia dando troppo importanza oppure magari pensi ma sì effettivamente avrà qualcosa allora dipende anche dalle cose perché se è online me l'ha letto cioè dipende anche da cosa ho scritto se gli ho chiesto tipo i compiti mi infastidisce perché comunque non ti risponde subito capisco certo e invece se tu pensi di avergli detto una cosa meno importante dice vabbè vabbè capita capita